Il farmacista da Clark Kent a Superman, come diventare un supereroe. Questo è il titolo del convegno organizzato da Federpharma nel capoluogo calabrese per sottolineare il ruolo del farmacista nella pandemia, un periodo difficile che ha visto impegnati gli operatori sanitari in prima linea. Quest'anno Federpharma Catanzano ha voluto organizzare un convegno fuori dagli schemi, siamo andati su altre dimensioni parlando di superpoteri e supereroi. Certo non vogliamo darci sicuramente delle aree, ma la pandemia ha sicuramente tracciato il nostro modo di lavorare. Il ruolo è totalmente cambiato con nuovi servizi e principalmente con la telemedicina. Mi riferisco a ECG, oltre il pressore e oltre il cardiaco. Credo che abbiamo dato una svolta e un aiuto ai cittadini in questo momento tragico della nostra Italia. Il farmacista è stata una figura molto importante, abbiamo dato ciò che altre strutture non sono riuscite a dare, abbiamo avuto sicuramente delle pressioni ma anche delle criticità. E quindi noi stasera, oggi vogliamo fare un confronto sui sistemi che l'attuale servizio farmaceutico può dare ai cittadini. Grazie all'emergenza pandemica abbiamo avuto una vera e propria crescita professionale del nostro ruolo di farmacista. Oggi infatti non siamo più dei semplici operatori commerciali, ma siamo in grado di erogare servizi sanitari ad elevata specificità. Conosciamo bene la storia clinica del paziente, quindi abbiamo cercato di adottare e di sposare questo modello vincente che è quello della farmacia dei servizi.